Buongiorno a tutti e buona domenica. Fino a ieri avevo Eolo FWA che andava fino a 100 megabit con la tecnologia via radio e comunque faceva la sua egregia velocità, il suo egregio lavoro. Ieri sono venuti a posarmi la fibra ottica di SkyWiFi con il modem router SkyHub che è tutto personalizzabile fino a un certo punto. Io ho ancora il Fritzbox 7530 AX che spero aggiorneranno il sistema operativo del Fritzbox perché non risulta essere compatibile con alcune funzioni che SkyWiFi mette in funzione, mette in giro su internet per far funzionare i suoi dispositivi sulla sua rete, insomma i loro protocolli. Praticamente c'ho adesso il SkyWiFi Hub collegato e faccio uno speed test. Questa è una notifica che è arrivata adesso che sta facendo lui. Speed test. Speed test. Eolo andava fino a 100 megabit. Adesso sta caricando, ok, sta caricando l'applicazione. Vedete adesso Sky con, che è la mia rete, questa qui sotto, è un server scelto a caso dall'applicazione speed test che serve appunto per fare il puntamento verso un server per fare lo speed test. Dovrebbe andare discretamente, discretamente nel senso che dovrebbe arrivare fino al massimo un gigabit, non dal di sotto dei 500 megabit, forse 600, però potrebbe anche andare anche sotto, forse sui 400 o 500 megabit in download e 300 in upload. Allora facciamo lo speed test. Eolo andava a 100 in download massimo. Fino a 100 megabit in tecnologia via radio e in upload andava al massimo a 20, però costava di più. Per politiche economiche e anche di risparmio, ecco, si va a risparmiare quei 5-10 euro al mese su un servizio che comunque ha fatto il suo lavoro. C'aveva le sue pecche col maltempo e quindi non c'era proprio una garanzia illimitata. Mentre con la fibra andiamo a vedere cosa succede. Vai. Connessione. 3-8, ecco, già la velocità è sui 700 megabit in download. Il ping è di 4 millisecondi. L'upload invece va su a 300. Va su a 300. Con queste configurazioni e settaggi della fibra ottica di OpenFiber, perché Sky, ricordo, è uno dei tanti operatori che si appoggia alla rete di OpenFiber, ed è una fibra ottica condivisa. Rifacciamo il testo intanto per farvi vedere quanto è cambiato. Non cambia niente. Il ping è sempre bassissimo, 4 millisecondi e poi la velocità schizza su. Stiamo dicendo, Sky Wi-Fi lavora su una rete di fibra ottica di OpenFiber che è condivisa con altri operatori. Nel senso che la tecnologia FTTH che usano sono tecnologia fibra ottica via cavo direttamente dalla centrale fino all'abitazione. Però con le varie giunzioni in mezzo al percorso dove ci sono le derivazioni, le borche BUL, quelle che si vedono sui pali della luce o dei pozzetti. Ci sono le borche dove arriva il cavo dalla centrale, dall'armadio di strada, ci si deriva da quella borchia dove arriva il cavo multifilare in fibra ottica, derivano un cavo sempre in fibra ottica che arriva direttamente verso la vostra abitazione in FTTH. Niente rame, non c'è rame nella connessione, nel cabraggio, quindi il cavo di rete FTTH in fibra ottica si può infilare tranquillamente, poi lo fanno i tecnici comunque, insieme alla corrente e ad altri impianti già esistenti che possono essere anche datati, però la valutazione lì la fa in loco in sede cliente l'installatore e poi se tutto va a buon fine, questi sono i risultati, la fibra ottica è attivata e non c'è nessun problema ancora con la navigazione, con lo streaming del video, dei giochi online, della navigazione su internet, insomma le solite cose. Non è la fibra dedicata. La fibra dedicata cos'è? La fibra dedicata è praticamente il cavo diretto che non è condiviso con gli altri utenti e le altre persone, le altre abitazioni e le vicinanze. È una fibra dedicata, è una fibra, un cavo diretto proprio specifico che va dalla centrale, di zona, diretta all'abitazione, quindi non ci sono passaggi intermedi e borche esterne dove magari, che ne so, il tecnico di turno fa la manutenzione, tocca a questo filo qua di fibra e quindi magari succede il disservizio per il cliente, quella è un'altra cosa, ma già questa per un utente domestico finale, per le cose che si devono fare, come anche prima lo si faceva con l'euro, vanno più che bene. Già prima io l'andava bene, poi ho dovuto cambiare perché c'era proprio un problema di connessione altalenante durante i temporali e chi condivide con me la connessione si lamentava questo e tutto quanto. Ad un certo punto abbiamo deciso in santa pace di fare questo cambio e i risultati sono questi, stiamo a vedere, ma comunque i risultati ci sono. Buona domenica e buon weekend a tutti. Buona domenica e buon weekend a tutti.